I care campeggiava sulla scuola di Barbiana, o a cuore ci tengo, mi interessa, diceva il maestro Don Milani. E chi l'avrebbe mai detto che quel care potesse diventare simbolo per l'Europa intera? La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto nel suo discorso sullo Stato dell'Unione che quel care, we care, deve essere il motto dell'Europa. Lui disse agli studenti che quelle erano le due parole più importanti. Gli europei hanno dimostrato con le loro azioni cosa significhi, ha detto la von der Leyen, un messaggio chiaro e forte a richiamare proprio Don Milani, che resta un simbolo per tanti, se non per tutti. E quella responsabilità del care da oggi risuona in tutta Europa.